Rieccoci allo stand Beretta con Jarno Antonelli, responsabile per la pubblicità dell'ufficio marketing Beretta Italia. Jarno ci parlerà ora della nuova gamma prodotti A400 Explore e dice Jarno qual è la novità essenziale e più importante di quest'anno. Alexa abbiamo presentato in ambito venatorio l'evoluzione della serie A400 con il nuovo A400 Explore Action, camerato 76 mm, un'ulteriore evoluzione di questa gamma che sta ottenendo notevole successo sia in campo venatorio che in campo sportivo. L'Action si presenta per la prima volta al mondo con un dispositivo elettronico che avrà incorporato di serie nella coccia dell'impugnatura del calcio e che potrà garantire ai tiratori così come anche ai cacciatori, lo vediamo qua su questa rastrelliera girevole, la possibilità di conteggiare i conti per tutta la durata della vita del fucile con una session parziale di 7 conteggi, la possibilità di misurare la temperatura e soprattutto di quantificare l'energia delle cartucce sparate facendo anche una comparazione tra due diversi tipi di cartucce della stessa grammatura. La A400 Explore Action presenta lo stesso sistema presa a gas della serie A400 Explore con un peso in calibro 12 di soli 3 kg, quindi un fucile versatile che può essere usato per un tutta caccia dai 24 grammi fino alle 57 grammi, ideale per la caccia vagante con il canna al seguito e soprattutto la fersalità è cresciuta grazie alle fresature sulla scatola di culata che ne consentono il montaggio di dispositivi di puntamento o di speed dot che favoriscono l'acquisizione del bersaglio. La calciatura è in legno e le canne disponibili abbiamo dai 61-76 cm di lunghezza, sempre acciaio speciale Beretta, quindi parliamo di tecnologia Stilium con foratura profonda dei tubi, martellatura integrale a freddo e distensione sottovuoto degli stessi che consentono l'utilizzo anche delle munizioni high performance HP. La A400 si arricchisce anche di una versione per gli amanti del tiro a volo, nella versione Sporting A400 XL, qui vediamo con l'anodizzazione particolare colore blu elettrico, anche questo dotato di serie o a richiesta del Gumpod, questo dispositivo elettronico che permette appunto di conteggiare i colpi oltre ad altre funzioni molto interessanti ed è nato per l'attività Sporting. Nella parte anteriore dell'astina monta il balance cap, cioè il tappo anteriore che permette di essere sostituito con altri tre di diverso peso per migliorarne il bilanciamento e adattarlo alle diverse esigenze sportive. Grazie Jarno per questa spiegazione veramente esaustiva che ha illustrato tutta la famiglia A400, quindi abbiamo un blu elettrico per il tiro e un bronzo, il colore bronzo della bascula, per ricordarci bene quali sono le due grandi novità di quest'anno ad EGSA. Grazie Jarno. Grazie a voi.